buonasera vi porto veramente poco tempo ciao è finita qui tutta buon anno fate quello che dovete ma perché tanto vi riempio la testa ogni giorno con le mie dirette vi riempio la testa ogni giorno dei miei pensieri delle mie parole dei miei sentimenti verso di voi ovviamente è una zoom un po improvvisata capisco che a fine anno è il trenta ma noi siamo sul pezzo stiamo chiudendo questo anno questo duemilaventi stiamo chiudendo questo mese dicembre che è uno dei mesi lo sappiamo a dicembre è sempre un po alta alta allenante si sente basso come mi sentite come mi sentite datemi qualche feedback benissimo ok l'importante è che mi sentite benissimo se si sente basso cercate di alzare il volume o dipenderà da voi l'importante è che mi sent che mi sentite quindi quindi come sappiamo a fine anno dobbiamo tirare un po giù le le somme ma noi ragazzi le somme le tiriamo ogni ogni mese noi le somme viviamo di obiettivi viviamo di azioni viviamo di veramente giorno per giorno non è una vita che passa così da quando siamo entrati nel network marketing abbiamo capito che il tempo è importante abbiamo capito che abbiamo la possibilità di crearci il nostro tempo di vivere il nostro tempo appieno con le nostre emozioni col nostro volere con la nostra forza è importante per me che voi facciate un'esperienza del network che voi facciate un'esperienza del nostro team meravigliosa per me questa è la cosa più importante le qualifiche arriveranno la bravura arriverà il talento arriverà se fate le giuste azioni quello la domanda che vi inizio oggi è questa che cosa avreste voluto fare nel 2020 che non avete fatto che cosa rimpiangete ancora non siete stanchi o stanche di vivere di rimpianti se avessi così inizia un rimpianto se se avessi fatto più dirette se avessi fatto pubblicità se avessi iniziato prima se avessi scritto a quella persona se non mi fossi fatta le pippe mentali se se mi fossi impegnata di più se avessi seguito meglio il programma questi sono tutti i rimpianti che potremmo avere del 2020 se avessi sfruttato quel lockdown invece di buttarmi giù bene siamo arrivati appunto alla pagina 364 domani sarà l'ultima pagina del 2020 noi ci dobbiamo fermare dobbiamo usciarla qua domani è l'ultima pagina e secondo me io lo vedo sempre come un primo giorno del 2021 abbiamo un giorno in più io vivo sempre di questo sfruttare il momento assoluto le persone in questo periodo vivono di propositi le persone in questo periodo sono piene di speranza e noi sappiamo che gli possiamo dare speranza risultati benessere bellezza ma soprattutto felicità sfido ognuno di voi di questi centodiciassette persone presenti in zoom a dirmi che non siete felici di essere qui questa è la cosa più importante per me perché la vita vale la pena di essere vissuta per essere felici se io sono felice faccio le azioni se io sono felice mi sento una persona giusta ovviamente siamo qui per migliorare migliorare il primo Natale che ho passato in Giuse Plus il primo fine anno che ho passato in Giuse Plus ovviamente avevo raggiunto un grandissimo risultato per me che avevo iniziato da zero vedevo stasera con Anna avevo chiuso la qualifica di CNMQ 24 mila euro di Payline sono entrata a settembre si può dire il 18 agosto e quello che vi posso raccontare è stato il mio estremo focus il mio estremo fare azioni senza sapere manco quello dovevo fare azioni che cosa vince in questa attività parlare con le persone che cosa vince in questa attività fare innamorare le persone di noi di un'azienda di un gruppo di una speranza di una voglia di fare non c'è una ricetta perfetta non c'è un segreto chi fa qualifica e chi non fa qualifica non è che quella che fa qualifica c'ha un segreto e quell'altra no no quella che fa qualifica fa le azioni e in se ferma quella che non fa qualifica o sta imparando o sta nel processo o fa niente le cose sono queste eh è giusto il momento che state passando è giusto il dove siete nella scala della della qualifica perché è quello per cui siete state disposte a fare qualcosa io voglio che il duemila e ventuno sia per sia per voi l'anno dove volete ottenere dove dovete ottenere e dove vi impegnate a fare molto di più di quello che avete fatto finora perché anche se pensate di essere al limite l'avete letto l'avete visto nei video che vi ho mandato ricordati che sempre sei solo a un 40 per cento del tuo potenziale viviamo una vita e non riusciamo a capire o a vivere o a sperimentare quanto cavolo possiamo fare nella nostra vita potremmo vincere ognuna di noi le olimpiadi raga perché non le vinciamo perché non abbiamo non facciamo allenamento non andiamo magari non abbiamo vicino una struttura eh non abbiamo le condizioni ma perché ognuno di noi non potrebbe vincere qualcosa alle olimpiadi se si impegna per quattro anni in qualsiasi disciplina e così quello che può succedere nel network marketing nel network marketing però parliamo di cambiamento di vita entrata economica automatica ricorrente un lavoro che ti appassiona un lavoro che ti piace non è vendita non è vendita la vendita è stata altre parti la vendita è qualcosa è un lavoro raga è un lavoro è ovviamente dovete iniziare e dovete imparare a fare tutto dovete imparare a vendere dovete imparare a rispondere dovete imparare ad usare gli strumenti più che altro dovete imparare ad ispirarvi agli altri agli altri che non significa copiare ammirate fate i complimenti alle persone che vi piacciono e prendete tutto quello che potete prendere io ho fatto sempre così sempre così ci sono persone migliori di me io mi ispiro a loro perché non sono la migliore non sarò mai la migliore ma posso essere la migliore versione di me stessa ogni giorno ogni anno questo che dovete capire voi siete qui per migliorare per migliorare ma se ogni giorno fate un calcio in avanti e due passi indietro un calcio in avanti e due passi indietro ragazzi danniamo è come la dieta è come l'allenamento questo dovete imparare dovete avere una mente militare per un anno ce la facciamo non ce la faccio va a paguro qui ve lo posso dire in diretta in diretta non posso dire ma quasi ci manca poco ci manca voglio un atteggiamento militare che significa che oddio ha detto Sara e adesso è lei il tiranno sì il tiranno sauros rex raga fenex diciamo felice io voglio il mio il meglio per voi io voglio che tutto quello che è successo nella mia vita succeda nella vostra vita che voi ci crediate o no può succedere come allenamento costanza impegno 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 sacrificio che cosa sono disposto a fare per la domanda è perché siete qui ancora che a fine mese ah potevo impegnarmi di più ah potevo andare meglio acqua là ci sono gli altri bassi è normale ma non esiste un anno di altri e bassi raga quello che dovete fare voi e ve lo dico per tre mesi tre mesi partiamo a step di termesi non fermatevi mai parlate con più persone possibili chiappate gli schiaffi a destra e sinistra chiappate i no a destra e sinistra fatevi vedere che siete entusiasti che avete voglia di dare qualcosa di comunicare qualcosa non glielo dico che mi vergogno oh allora da che ti devi vergognare giusplast è il top il network marketing è il top non fai i conti in tasca a nessuno dai una speranza dai un'opportunità poi ognuno fa quello che gli pare ma se non glielo dici tu sta sicura che io dice qualcun altro sicura e il tuo vicino di casa entra con qualcun altro il tuo vicino di casa compra giusplast da qualcun altro questa attività è fatta di no se non prendete i no non sta da fare attività se prendete sì non è possibile non è possibile perché una persona ha bisogno di tempo ha bisogno di conoscerti ha bisogno di capire ovvio se questa persona piena fiducia in me mi dice sì anche se io non so quello che sto facendo ma dovete essere presenti profilo storie instagram youtube quello che vi pare informatevi siate curiose e ripeto copiate gli altri che vi piacciono non sarete mai uguali è normale ma se non iniziate come fate a diventare bravi quindi la prima domanda è volete diventare bravi io penso che la risposta è sì che devo fare che devo fare non ci starebbe manco da studiare chissà che non ci starebbe niente niente devi parlare con le persone devi far conoscere giù splassa le persone e ti devi far conoscere dalle persone per una volta ti devi stimare brutto è per una volta ti devi amare ti devi mettere in mostra che brutto che cose brutte mi fai fare Sara e vedo che ti tocchi vi divertite tutti però ciao Brunella qui vicino tanto bene ciao Brunella dovete prendervi cura nella maniera più assoluta di voi come se voi fosse i vostri figli che cosa gli direi i vostri figli e dovete andare a sostenere un esame molto difficile che gli dite no fiumi ognà farai mai non ci credo non ci credo voglio insegnarvi l'autostima voglio insegnarvi l'autoconvincimento voglio insegnarvi l'autocalci in culo quello funziona più di tutti funziona le scuse no non lo so ma che non lo so ci deve avere un diavolo in angelo perché il diavolo ce l'avrai sempre che ti dice che non sei che non hai che non avrai e te devi accontentare ma ci deve essere sempre la controparte quando vi smontate dovete trovare un motivo per montarvi non esiste che vivete una vita così che vita è poi ci si mettono anche tutti gli altri intorno o no vogliamo dare ragione agli altri che non valiamo niente che non riusciremo mai ma poi chi è che ce lo dice io ancora devo trovare una persona che vedo sti post perché mi dicono che non ce la farò mai ma chi te lo dice che non ce la farai mai tutto nella testa tua tutte le tue paure la paura del fallimento la paura del fallimento il fallimento c'è c'è perché per ogni qualifica che fai passeranno tre mesi che non fai niente il fallimento c'è lo devi capire lo devi accettare lo devi sfruttare ogni persona con cui parlerai sarà un no ma è un non adesso la tua vittoria è trasformare quel no in sì poi mese due mesi tre mesi cinque anni raga lo sapete che a me mi riscrivono dal duemila e quattordici ti seguo è normale ognuno ha i tempi ma in questo tempo tu chi sei diventata chi stai diventando vi parlo di qualità di vita raga prima di giusplassa ve le facevate mai ste domande prima di giusplassa mi facevate mai sti pensieri avevate mai questa ambizione lo so che ci avete paura tanto tante volte ma ce l'avevate mai sti ambizioni cazzo posso andare su quel palco porca miseria posso prendere un bonus da cinquantamila euro chiavissima cinquantamila euro a meno che non siete ricchi di famiglia ci può stare ma tanto non avete visti umane perché ce l'hanno i genitori vostri mia ce l'avete voi la possibilità tutte queste possibilità e noi che famo invece ci scavamo tutte le fosse intorno no c'è stata possibilità però scavo le buche le sabbie mobili tutto è possibile tutto è realizzabile se vi domandate perché io dovrei aver successo la domanda di quest'altro che ti dà il caccio un culo perché non dovresti avercelo o molte di voi perché non riesco a dimagrire perché non riesco ad essere costante siamo tutti uguali tutti uguali e di trovare qualcosa che ti piace sinceramente e qualcosa che ti piace sinceramente poi non lo puoi buttare via perché non te funziona funziona è come la palestra dovete fare 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 senza fermarvi perché se vi fermate tutto quello che avete fatto prima va a puttane raga va a puttane perché state sempre nello stesso punto e sembra che tornate indietro o magari avete raggiunto una qualifica e è crollato tutto succede ma fatevi un'analisi di coscienza succede è successo anche a me raga eh per eventi esterni grandi e lo sapete ma perché perché ci siamo fermate noi mica è stato l'evento esterno grande abbiamo avuto paura se le azioni non le fai i risultati non li hai questa è l'unica verità che ti posso dire le azioni sono fondamentalmente parlare con le persone mostrare l'opportunità le persone in questo momento cercano un'opportunità e se fosse una questione di vita o di morte smuoveresti quel culo all'infinito per me era una questione di vita o di morte del mio essere ecco perché è andata così l'unica l'unico pensiero che avevo in testa è cazzo ci devo riuscire qual è il vostro pensiero brunete sveglio ogni tanto con ste cuffie quando strillo so contenta dai non so balzare qual è il vostro pensiero continuo oddio non ce la farò mai ma dannate dannate se se questo è il pensiero c'era in testa è quello cioè tutti i giorni se c'è uno che ti dice ce la devo fare ce la devo fare ce la devo fare sono cazzato sono cazzato stagostino sono cazzato sono cazzato cazzo sono cazzato cioè senti cioè provate la fa sto sono cazzato un minuto uno ormanete senza fiato due ve batte il cuore tre ve pompate oddio mio chissà cioè nonna nonna mia è più gioviale e giovane di voi no e non perché voi non siete ma perché ve smontate da sole io dovete capire capire che il successo siete solo voi nessuno può decidere per voi nessuno tutti no del mondo non possono decidere per voi perché quando avete deciso una cosa nella vostra vita chi va fermato chi va fermato nessuno e allora perché me devo fermare perché c'è qualcosa di più importante va bene è la vostra scelta ma io lo so quanto ve brucia dentro sta cosa ecco perché vi parlo così se ve brucia l'istinto la voglia di se lei ce l'ha fatta la fa lo faccio anch'io quindi partiamo tre mesi tre mesi tre mesi tre mesi ad ogni lamento un calcio in culo cioè dovrete dovreste tenere proprio un quaderno ah non lo so trova subito la soluzione vedrete come cambiate al come ha cambiato atteggiamento come posso fare no perché succede questo perché mi dicono tutti di no come posso fare a farmi dire di sì fatti conoscere racconta la tua storia non aver paura di dare il kit da 130 euro lo fa gli conti in tasca che cosa vuoi dare al cliente un'esperienza buona sì allora è questa no un pacchetto io voglio vendere come via via che ci fanno poi con una cliente che non è soddisfatta che ci facciamo con una cliente che non si innamora di juice plus niente niente sicurezza mi hai cercato sì vuoi conoscere juice plus come si deve sì questo è quanto ci avete i miei video non vi piace usare i miei video fate i vostri non mi interessa o ripetete la stessa cosa un miliardo di volte perché i video li abbiamo fatti adesso per sette anni abbiamo fatto sette anni di copia incolla raga eh quindi non è non succede niente una questione di praticità una questione che ovviamente se uno sente una persona che parla con sicurezza presenta è magari viene più colpito ve lo ribadirò ancora e ancora ancora perché io lavoro usatemi non me mannate gli vocali ma usatemi ok le dirette che faccio la mattina sapeste quanti anni mi smuovono quante persone anche l'altro giorno dice io avevo rinunciato da che hai detto un minuto in bocca tre anni in culo no t'ho scritto perché io racconto tutto quello che passo io e voi raccontate quello che tutto non è tutto perfetto raga perfetto non sta manco più a casa il mulino bianco manco ce la fanno vede più quindi di perfetto non c'è più niente ma vero vero io lo voglio vero lo voglio che mi capisci lo voglio che mi stimoli voglio che mi dai esempio non vi ho mai chiesto niente in questa maniera ma raga se non diventate esempio e se beh fermate eh dovete diventare le persone migliori delle donne con le palle donne che fanno seriamente questo lavoro lavoro perché se vi si rompe la macchina e dovete andare al lavoro ci andate a piedi qua se si rompe il telefono state un mese ma anche lavorate ma allora di che stiamo a parlare di che stiamo a parlare c'ho internet ma di che stiamo parlando è sempre una cosa una vostra questione di obiettivi io vi voglio portare al successo come ogni fottutissimo anno e non dite che non è per tutti molte persone mi dicono non è per tutti non tutte le persone arriveranno al successo ma perché perché io mi chiedo ma io ci credo veramente che in ognuna di voi ci sia una potenza una potenza pazzesca ma affinché non aprirlo il cancello sarà sempre là dentro lo dovete sentire lo dovete volere lo dovete pretendere da voi militare vi chiedo vi chiedo e non è impossibile tre mesi senza sosta che sono i mesi più importanti questi perché gennaio chi è che non si vuole rimettere in forma e noi ci siamo stories opportunità raccontate fate vedere fatele ridere partiamo dal presupposto che nessuno vuole fare la dieta nessuno vuole fare la dieta tutti vorrebbero la bacchetta magica rivoluzioniamo la mente delle donne ce l'ho fatta un pochino con voi a rivoluzionarvi la mente no il brucia grassi la cellulite al gente ti piace di mangiare allora se ti piace di mangiare va bene juice plus ovviamente però devi cambiare la testa e prima o poi questo messaggio arriva iniziate iniziate a fare ogni giorno un passetto in più quello che non vuoi fare o qualcosina in più per tre mesi ve la tenete in agenda tre mesi tre mesi ma tanto non ce la fate è questo che mi da perché se lo fate voi manco capite dove arrivate non ve ne rendete conto nemmeno poi vedete che fate una qualifica dietro l'altra la gente vi adora la gente vi segue la gente compra la gente entra con voi voi dettate il vostro il vostro risultato è inutile che faccio questo perché voglio risultato adesso aspetto il risultato per vedere se funziona no faccio finché non arrivo al risultato se io ti dicessi non ti vuoi fermare finché non arrivi al risultato mappete che lingua però a questo che servirebbe e vi ripeto se io vi facessi firmare se l'azienda vi facesse firmare quel foglio dicendovi firma qui per tre anni devi parlare con cinque persone al giorno tre anni ogni santo giorno cinque persone e tra tre anni ti do diecimila euro al mese voglio vedere da domani che fai volevo vedere da domani che facevate a questi tre anni manca una lira prendi eh però tra tre anni ti do diecimila euro al mese firmato e sottoscritto volevo vedere se te lamenti se dici io non so che fare o se facevi le azioni in tutti i modi possibili e questo è gius plus raga eh e questo è gius plus eh in più ti migliori diventi più performante più energica cioè la tua testa cambia cambia completamente nell'affrontare la vita ma soprattutto sei soddisfatta di te sei soddisfatta di quello che stai facendo gli alti e bassi fanno parte della vita ok ma gli alti e bassi non si devono rispecchiare sull'attività raga questo lo dovete capire Angela smettila di mannarsi i vocali poi mentre insurdo la gente pure lo dovete capire io vi posso raccontare la favoletta però io veramente vi voglio portare al successo veramente voglio tirare fuori la parte forte forte di voi la parte seria la parte che non molla ognuno di voi va al lavoro tutti i giorni ognuno di voi ha un'attività propria e non mi ho il su e giù oggi non vengo sai che ho le mie cose oggi non apro il negozio vedo Elisa no oggi non vado in negozio perché mi hanno parlato male dietro le spalle questo è quello che succede nell'attività succede qualcosa oddio non me la sento di postare va bene raga l'attività è la vostra non sto dicendo che non lo dovete fare o non lo potete fare però vi sto dicendo quello che capita in questa attività perché la vedete molto legata al talento quindi io non avendo talento è inutile che continuo se in continuo il talento non ce l'avrai mai se non continui la bravura non ce l'avrai mai se non continui su quel palco non ci andrai mai se non continui la qualifica non la raggiungerai mai è questo che non vedevi fa fermare è proprio questa cosa come fai a essere costante ma come fai a non essere costante se perdi tutto quello che hai fatto cioè quando le cose vanno bene è bello viaggiare sulla cresta dell'onda ma si vede quando le cose vanno male chi veramente siete e come veramente la pensate abbiamo avuto la fortuna di incontrare Juice Plus di vivere nel 2000 quello che vi pare di essere nati 1980, 1970, 1990 quello che vi pare a voi di aver incontrato Juice Plus di aver incontrato il network marketing di avere la possibilità della ricchezza inteso come soldi, inteso come valore non dovete essere i figli di nessuno non dovete essere appoggiati da nessuno non ci dovete avere le ponze ma ci avete la possibilità le ponze lo sapete che cos'è le spinte i favoritismi ma avete la possibilità perché tante volte parlo ma dopo è scontato che tutti mi capiate ma abbiamo la possibilità di come la sfrutto sta possibilità? è come se uno ti dà una scatola di semi guarda, si semi sono quei fagioli d'oro fagioli, le piante dei fagioli magici se non li metti non crescono se non li agnaffi non crescono se una volta che c'è la pianta non sali su non ci vai di sopra ah ma lei va su hai capito? tu che fai? dormi uno il confronto non deve esistere deve esistere ispirazione ispirazione fiducia e serietà io vi auguro di iniziare a fare le cose per cui voi vi ringrazierete ogni giorno se quest'anno ci avete avuto un sacco di rimpianti il prossimo anno deve essere ogni giorno ringrazio per quello che ho fatto raga io quel 18 agosto sto ringraziata tutti i giorni perché ho iniziato quel 18 agosto se non avessi iniziato oggi sto stavo con la casetta di legno gli eravo fuoco con sto covid porca miseria fate ogni giorno ogni possibilità qualcosa per cui vi ringrazierete anche se adesso non lo capite avete iniziato una scuola per diventare migliori avete iniziato una scuola per diventare ricchi possiamo fare le influencer del benessere del sorriso della speranza tutto senza rischi cioè voi io cioè veramente non riesco a proporre l'attività ma come fate a non proporre l'attività uno non la fate non lo fate ah perché se mi fanno le domande le domande non fa niente ce la avete come risponde ci stanno i video ci sono le vostre app poi per parlare ma quando una persona gliela racconti così ma che vuoi di più dalla vita Lucano tutti vogliono un'opportunità bisognerà corteggiarli un pochetto bisognerà ricordarli ogni giorno i propri desideri cioè noi che dobbiamo ricordare i desideri alle persone lo capite in che mondo viviamo? e io che devo ricordare i vostri desideri a voi io vi devo motivare a fare cosa? fare cosa? a sognare? a fare? a cambiare vita? a diventare migliori? ci sarebbe solo bisogno di chiarezza di chiarezza io ripeto io mi muovo tanto per dolore quindi tutto quello che non mi piace mi fa muovere io fuggo da ciò che non mi piace ci sono persone che si muovono per piacere ovviamente quindi magari nelle mie parole tante volte è stata un po' così perché io parlo tanto del lato brutto quindi quel lato brutto io lo fuggo cerco di essere migliore però ci sono persone che si muovono per piacere cioè quando vedono puoi, puoi, puoi però alla fine ci sta puoi questa è una possibilità ve la dovete ricordare quando raccontate del business che cos'è? una possibilità è un lavoro serio sistema distributivo dove non c'hai rischio di niente non devi aprire il negozio non devi pagare l'affitto non devi spedire non devi comprare oh devi far solo promozione te devi migliorare una sorta di influencer dove ovviamente una volta veicolato il prodotto l'azienda ci paga ah ma io sto lavoro sui social non lo so sono poco social cioè te sto parlando in opportunità mi trovi di problemi cioè se mi servivano persone se ci servivano persone brave ci facevamo mandare i curriculum vedi che lì persone che non pensavano di essere brave mandavano il curriculum è tutta una questione di schema mentale raga lo capite? dobbiamo andare a rompere tutti i schemi mentali tutto sto calcare che ci abbiamo dentro prima noi e poi gli altri prima noi e poi gli altri tre mesi tre mesi e un giorno gennaio febbraio e marzo tre mesi e un giorno quanti giorni sono? 92? no c'è febbraio 90 giorni butta là non voglio quei 90 giorni a me mi frega niente dei 90 giorni però tre mesi senza fermarsi un giorno ce la facciamo a parlare per tre mesi con due persone al giorno? due tre poi se parli con dieci tanto meglio ce la facciamo? a mandare i video? a mandare il prezzo e finita lì? guarda non mi frega niente non mi devi dire sì ne no devo fare questo ma io voglio comprare no no non mi frega niente devo solo parlare con te solo parlare incuriosire invogliare non vendere io non vendo niente io non vendo niente non vendo cerco di far capire perché sappiamo tutti di essere persone intelligenti sappiamo di meritare di più la paura del fallimento del successo ma ce la faccio o non la faccio ma che cosa? ricordatevi che tutto quello che è legato al cibo è molto serio la felicità non è legata al cibo è che purtroppo il cibo ci hanno insegnato che può aiutarci non si sa che però quindi noi iniziamo a far capire le persone che devono mangiare con felicità che devono prendersi cura di sé e che mangiando bene poi si dimagrisce non mangio bene perché voglio dimagri o vado in palestra perché voglio dimagri una volta che te sei dimagrita metti tutti gli chili quindi non mi dici ho fatto poi ho rimesso se hai sbagliato l'obiettivo questo io dico alle persone questo io dico alle persone non c'ho segreti e tutte rispondono benissimo mica comprano però rispondono benissimo la prima cosa io dico vuoi fare un'altra dieta che appena smetti rimetti peso? non te sei stufata a 40 anni ancora? basta l'attività ti parlo di opportunità di speranza di ambizione di successo guarda quante storie guarda quante persone raccontate le storie nel gruppo taggatele sotto i primi e dopo imparate tutto del nostro gruppo conoscete le persone seguitele ispiratevi e partecipate che è la cosa più importante e siate propositivi un giorno sarete grandi leader se state aspettate sempre Sara Settini io non ho mai aspettato nessuno siate propositive siete euforiche siete diverse siete di mille colori potete contribuire in tutto più fate e più otterrete assolutamente tre mesi senza sosta tre mesi dove io devo parlare se un giorno non parlo con una persona il giorno dopo devo parlare con quattro cinque questo è il vostro impegno volete sempre sapere che devo fare questo dovete fare iniziate a raccontarvi non volete fare le dirette raccontate nelle storie iniziate a scrivere se non volete fare le dirette ma senza chiedimi come che che te devo chiedere se sono interessata devo chiedere sì c'è bisogno e mi dici chiedimi come raccontate la vostra storia la storia delle vostre app come una mappa del tesoro che avete scoperto ho scoperto se iniziate a usare questa parola ho scoperto se qualcuno vi dice ho scoperto come addrizzate le orecchie le orecchie scusate ho scoperto ho un modo ero oggi sono ho trovato voglio raccontarti no detox è prega sono sette anni che fanno sti post non ricaga nessuno lo volete capirsi o no che va bene perché ogni tanto il prodotto là dentro ci può stare a me frega niente ma la specialità siamo noi siamo noi l'avete visto oggi il post che ho fatto con la disana e quello che ci ho scritto ah ma io non sono brava a scrivere i post manco ci provi parte che puoi copiare e non me ne frega niente perché se lo faccio lo faccio per voi ma volete me ti scrive quattro giorni detox e il post è un po' come l'ho fatto io poi per carità può piacere un po' piacere ma io da donna curiosa che sto sempre a scorrere su facebook posso essere più interessata a conoscere come fa una Sara come fa una Brunella come fa una Rita perché tutti sappiamo come dobbiamo mangiare bene trovate meno una che non sa come mangiare bene ciao Alessandra abbiamo bisogno di un supporto abbiamo bisogno di una guida abbiamo bisogno di qualcuno che non ci molli che ci stimoli tutte mi chiedono questo e il segreto è proprio questo ma prima dovete esserlo voi esempio quest'anno vi chiedo di diventare di più di diventare di più e non ve lo chiedo per me ma per la vostra vita è arrivato è arrivato il momento seriamente il momento di impegnarsi Angela non mi guardavo in quella faccia è bloccata di impegnarsi di fare di pretendere da noi stesse non potremo pretendere dal team non possiamo pretendere alle clienti non possiamo pretendere niente voi dovete pretendere solo da voi stesse leggete ispiratevi fate i corsi ci sarà a giugno la possibilità di partecipare al corso di Tony Robbins 480 euro quant'è che costa non mi ricordo se siete interessate mi scrivete in privato online 5 giorni che sbattono al muro siamo nati qui per capire che cosa siamo destinati a fare innanzitutto siamo destinati a capire quello che possiamo fare non che dobbiamo fare quello che possiamo fare io in ognuna di voi vedo una grande potenza ma vedo anche una grande resistenza siamo fatti di acqua e fuoco bianco e nero ce l'hai tutte e due perché devi pensare sempre negativo cerca veramente di ricordarti ogni sera 2021 sarà l'anno più bello della mia vita anche se il primo ti succederà una merda scusate la parola ecco mi mancava fa niente sono pronta sono pronta il 2021 sarà l'anno più bello della mia vita il 2021 sarà l'anno in cui ogni giorno dirò grazie il 2021 sarà l'anno in cui ogni giorno parlerò alle persone di quello che ho scoperto il 2021 mi ispirerò alle persone migliori glielo dirò tutti i giorni che mi piacciono e mi ispirerò a loro il 2021 voglio fare grandi cose non cose straordinarie grandi cose voglio fare ogni giorno un pochino di più come se devi fare dieci serie e ne fai undici il 2021 leggerò di più il 2021 voglio aiutare più persone possibili senza sosta questo è l'unico segreto perché se non siete nel successo è perché ve siete fermate se non siete nel successo è perché ve siete smontate e non dite di no non è che non ci avete creduto siete proprio fermate perché nella testa il desiderio ce l'avete nella testa la voglia ce l'avete ma tutti ce l'abbiamo ma vince solo chi è disposto a lottare anche nei momenti più difficili costa tanto il successo ma vale vale per te per la tua vita per la vita dei tuoi figli vale vale la vita che non è una questione di denaro non c'entra niente il denaro arriva è una conseguenza raga è una questione di testa che bello guardarsi allo specchio che bello essere soddisfatte di se stesse e non è che siamo soddisfatte tutti i giorni di noi stesse certe volte manda a fanculo da sola ovviamente tante cose però so quanto valgo e questo è bellissimo voi lo sapete quanto valete lo so grazie a tutte le persone che mi scrivono ogni giorno per questo vi dico se vi piace una persona se vi ispira scriveteglielo perché inconsciamente voi aiutate quella persona ad essere sempre migliore è importante la gratitudine è importante i complimenti è importante il riconoscimento il lavoro più bello è questo è quello di poter donare qualcosa alle persone ma in primis se non doni niente a te raga non puoi donare agli altri non sarà mai sereno non sarà mai tranquillo questo donare nella pienezza tu dai nella mancanza non puoi dancazzo cercate di essere pieni 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 di voi pieni di sogni pieni di speranze pieni di azioni pieni di amore di soddisfazione di voglia di fare di cazzutaggine ambizione coraggio pensate che bello tutte così pensate che bello e poi lì si moltiplica si moltiplica tutto e arriverà la legge di attrazione attrarrai veramente chi stai diventando quest'anno vi chiedo un casino di impegno per voi stesse basta sta a perdere tempo raga basta fa cinque giorni un mese poi sparite basta ma che stiamo a fa ma che stiamo a fa è una cosa seria il successo può essere tuo davvero davvero perché sei speciale anche se non ci credi sei tu c'è il tuo nome il tuo cognome la tua vita i tuoi sentimenti la tua potenza non devi essere uguale a nessun altro uguale a nessun altro anzi più sarai particolare e più ne andrai fiera ogni ripeto ogni problema che ti viene in testa trova la soluzione trova il calcio in culo pensa a sta cosa però me lo devo dancarci metto Sara me devo dancarci un culo e ne ha vai manca a dattelo qualcuno lo trovi e te lo dà ok ci sorridi ti prendi per il culo perché è così che si rompe una credenza così che si rompe uno stato d'animo debilitante fai le figuracce ma che fai se fai le figuracce servono per imparare sapesse quando l'hanno fatto io le figuracce quando mi dicono vedere i tuoi video iniziali ma io io riguardo ogni giorno le mie dirette ragazze ogni giorno non c'è un giorno che non riguardo la mia diretta e mi metto pure a ridere da sola lo so alla vecchiaia però è questo dovete essere orgogliose di voi magari tutte le volte qui potevo di meglio qua potevo fa però mi diverto basta quello però vedere le prime direi io ho iniziato a fare le dirette nel 2017 ok sono tre anni che faccio le dirette tre anni senza smettere se vedo quelle iniziali mamma mia dico ma chi è quella eppure ero soddisfatta facevo ok quindi vi vedrete sempre migliori importante è che vi vediate migliori è importante e avrete qualcosa su cui basare e su cui raccontare al vostro team quindi impegno tre mesi senza un blocco senza una fermata senza una caduta tre mesi in cui so cosa devo fare come lo devo fare e con che testa anche se non ti senti in grado non fa niente devo fa quello muda militare disciplina perché con voi la carota non funziona allora disciplina disciplina l'ideale sarebbe che scrivete tutti i nomi delle persone con cui parlate e a fine mese mi date il prospetto bello eh voglio dire chi lo fa voglio dire chi lo fa a ogni fine mese che mi porta le persone con cui ha parlato a me non mi frega niente se vendete non vendete con le persone con cui hai parlato tre mesi ce la fate a tenere due righe durate due giorni durate voglio vedere vi sfido sfidatevi è la vostra grande opportunità se no tra un anno stiamo qui a DSS cose le stesse identiche cose voglio successo nel mio team voglio persone che non se lamentano voglio persone che sanno quello che devono fare per se stesse è importante voglio persone che mi seguono perché io sto qui solo per voi non faccio non salto le dirette non è che le fate ho visto qualche giorno non la faccio ma perché so che la gente si aspetta la diretta non faccio post a cazzo perché voi mi seguite e io non voglio che voi fate post a cazzo non faccio storie a cazzo perché voi mi seguite voglio fare le cose giuste per voi se io non lo faccio non è perché non me ne frega niente se non lo faccio è perché non lo reputo giusto e per me il gruppo è più importante di me voi siete molto più importanti di me e sul lago della bilancia per uno o mille o tutto il gruppo ovviamente io scelgo tutto il gruppo anche se questo mi dirà vaffanculo sei una stronza voi venite prima di tutto e se per me venite prima voi per voi stesse dovete venire prima di tutto potete cambiare vita come ho fatto io non smetterò mai di dirvelo e a me chi mi dice sempre non è per tutti non tutti ce la fanno io mi incazzo come una bestia ma mi rendo conto che il più grande ostacolo per voi siete voi stessi siete voi stessi o vi insulto dalla mattina alla sera decidete voi o iniziamo a lavorare seriamente con disciplina con disciplina perché la vostra vita è il vostro successo e poi la vostra felicità ovviamente dobbiamo fare tutto con felicità io voglio veramente stare su quel palco con ognuna di voi ognuna di voi perché ve lo meritate perché lo avete scelto voi io non vi ho preso per i capelli voi non state qua dentro perché vi ho preso per i capelli io state qua dentro per scelta quindi stasera è che scegliete di fare stop non aggiungo altro non aggiungo altro pretendo io pretendo perché è il momento come io pretendo da me stessa è il momento di pretendere da voi lo pretendo brava Anna assolutamente allora intanto non so se c'è penso che ci sia anche Anna a sinistra stasera gli voglio fare i complimenti perché nel mese di dicembre Anna lo so cioè ripeto non andiamo nel confronto ma ripeto lo faccio con tanto cuore perché quando è successo a me nessuno mi ha fatto un complimento se parla sempre di Sara Settimi ma nessuno mi ha fatto mai un complimento quindi io non sarò mai stretta dei complimenti voglio fare i complimenti ad Anna Sini ha chiuso la sua qualifica di CNMQ sta in attività da agosto quindi voglio fare veramente tanti complimenti stima come è possibile Anna lavora come una matta non si ferma fa 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 poi che sia già stava nel settore perché mi sembra che lavori nel make up è per carità ma non è quello io aggiustavo i computer va bene non c'entra niente da dove vieni che fai che non fai c'entra quello che vedi e quello che puoi realizzare assolutamente quindi tanta tanta stima complimenti e non è è brava se può fa questo vi dice che si può fare ah no era solo per chi entrava prima perché molti dicono ah solo per chi entrava prima bene Anna è entrata nel 2020 ad agosto ok non sarà per tutti così ma è possibile è possibile come? quando inizi subito a costruire il team quando inizi a fare le pippie mentali dimmi quello che devo fare e lo faccio stop no non so brava non so qua non so stop via tutto quello che fanno gli altri lo faccio io ho fatto così calderone quello che via via le provo tutte ovviamente sempre con professionalità e etica ok quindi tanti tanti complimenti poi la Simona ha chiuso il terzo mese la Erika ha il secondo mese QSSC la Sonia ha chiuso il terzo mese QSSC poi va bene il primo i primi di gennaio faremo la diretta dei riconoscimenti non vedo l'ora non dovete mancare dobbiamo condividere dobbiamo far conoscere lo sapete che parlerò tanto dell'attività quindi invitate le persone invitate tutti i clienti ad ascoltare la mia favola ti interessa detto così come faccio ad usare queste parole leggete più leggete e più vi viene proprio naturale più parlate e più sapete parlare io stasera mi sono preparata a niente mi sono zittata un attimo è così allenamento e poi complimenti anche Antonella Leonetti ha chiuso il suo quarto terzo mese CNMQ verso il bonus veramente felice aspettiamo qualche altra qualifica di conferma non è facile non è una passeggiata ci saranno un sacco di ostacoli e ci saranno dei problemi grandi che ci sembreranno insormontabili perché? perché non l'abbiamo mai affrontati perché una volta che l'affrontati ma che era sta cazzata serve tutto per crescere quando arrivano i problemi quando arrivano non sono perché è contro di me ma no arriva per te per insegnarti qualcosa di grande non c'è bisogno che succeda veramente qualcosa di brutto nella vostra vita però ascoltate chi ci passa tutti i giorni e guardate come affronta la vita le persone che danno amore che danno speranza un giorno l'avevano persa quindi è molto importante che voi vi mettiate in ascolto e in azione non guardate solo la punta dell'iceberg delle persone non guardate l'aspetto fisico delle persone cercate sempre di capire dalle loro parole che cosa c'è dietro questo è molto importante quindi complimenti ancora abbiamo fatto un anno veramente bello nonostante la pandemia siamo stati veramente grandi 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 performanti io non smetto mai di ringraziarvi veramente per tutto quello che fate per tutto quello che dite per tutto quello che pensate per tutto quello che siete io ci sono e ci sarò sempre adesso vogliamo partire con questo progetto di portare dieci giorni con noi le persone sia che hanno i prodotti sia che non li hanno gli faremo vedere un po' quello che facciamo quindi forse faremo un gruppo telegram e poi l'undici partiamo con il keystart 10 quello nuovo però raga non è che se io non metto la ricetta non ci sto io non ci starita nessuno lavora là dentro perché se no non serve un cazzo la chat ha bisogno di energia fate le ricette le volete mettere dentro trovate qualcosa la volete mettere dentro ovviamente no i prodotti altri ma ci deve le persone si devono sentire stimolate si deve sentire energia e non è perché ci sto io ci sta energia non ci sto io non ci sta energia voi siete leader futuri voi vi dovete prendere la responsabilità di fare assolutamente io ho grande fiducia in ognuno di voi assolutamente e non smetterò mai quindi il mio augurio più grande è solo questo di fare da oggi in poi tutte le cose per cui sarete gradi un domani per cui vi ringraziere un domani assolutamente azione cuore testa e tanta voglia tanta voglia di stare bene grazie davvero ci vediamo domattina in diretta complimenti non fatti comunque faremo la diretta inizio anno che cosa è successo per quanto rimuono mi fa male tutto la radio niente hanno chiamato per fare delle interviste noi non possiamo essere intervistati stop io mi avevano chiamato io non l'ho fatto perché vabbè a me mi hanno detto tu ricopri comunque il ruolo non lo puoi fare perché qualsiasi cosa dite sarà usato contro di voi e non è che dopo è usato contro di voi è che è usato contro tutta Just Plus quindi evitiamo evitiamo assolutamente non è questo che ci porta al successo è tanta altra roba interessiamoci delle persone iniziamo a fare crescita personale cercate di partecipare al network di Gianluca sono 300 euro mi pare per un anno ragazzi non investite manco quello ma di che stiamo a parlare è il vostro successo è la vostra vita è la vostra opportunità non mi stancherò mai di riperdervelo grazie davvero non ci vedremo domani non ci sentiremo magari ma tanti tanti auguri veramente domani è l'ultimo giorno e possiamo sfruttarlo come primo giorno della del nostro 2021 io credo fortemente che il 2021 sia l'anno più bello della nostra vita e non lo dovremo far vedere il 31 di dicembre del 2021 ma lo dobbiamo vedere ogni giorno impegnatevi per voi iniziate a fattività fisica diventate stragnocche diventate strafiche piacete vedete madonna non fa niente quello che pensano gli altri non ci frega niente ispirate le persone mangiate il juice plus mangiate bene migliorate il vostro rapporto con il cibo migliorate il vostro rapporto con le persone non cercate la guerra cercate la pace cercate l'amore cercate la gratitudine per tutto quello che ci avete e per tutto quello che potete fare perché finché abbiamo la possibilità di poter fare siamo le persone più fortunate del mondo grazie buonanotte ciao raga grazie 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 grazie